www.marizopoli.it Il mese dell'educazione finanziaria nel 2024 sarà novembre, non più ottobre. A dare notizia al Festival dell'Economia di Trento nella trasmissione di due denari è stato il professor Donato Masciandaro. C'è stata una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione che ha segnalato che novembre sia il mese più adatto per avvicinare i giovani e le persone interessate alle tematiche dell'educazione finanziaria. Quindi il mese non è più ottobre, non sarà più ottobre 2024, ma sarà novembre. Quindi ci attiveremo anche noi come piccoli educatori finanziari, soci di ANCP, Associazione Nazionale Consigliati Patrimoniali e iscritti all'alba degli educatori finanziari AF con iniziative che faremo sul territorio e cui daremo notizia qui sui canali social. Quindi state attenti alle comunicazioni, stay tuned, come dicono quelli bravi. Il mese dell'educazione finanziaria novembre 2024. A presto per l'educazione finanziaria.